Questo video riguarda i migliori 3 fondotinta. Il vincitore della qualità è l'Oreal Paris Fondotinta. Fondotinta liquido fluido per una copertura modulabile e uniforme, coprenza modulabile per nascondere le imperfezioni, si accorda in modo perfetto e naturale ad ogni tono di pelle, adatto a tutti i tipi di pelle e anche quella sensibile. La pelle è sublimata, setosa e idratata per 24H. La qualità della pelle è migliorata dopo due settimane, colorito uniforme e naturale senza effetto maschera. Imperfezioni attenuate a lungo. Agitare prima dell'uso, applicare con un pennello o una beauty blender dopo il correttore Accord Perfect. Completa la tua make-up routine con la Cipria Accord Parfait. Formula arricchita con acido ialuronico, tecnologia skin matching con fino a 6 pigmenti per un risultato perfettamente adattato ad ogni tono della pelle, texture non grassa, non comedogenico, flacone in vetro condosatore. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il L'Oreal Paris Infallibile 32H. Fondotinta liquido idratante con coprenza infallibile, colorito fresco contenuta fino a 32H, low transfer, mask friendly e waterproof, pelle e imperfezioni coperte a lungo donando un fresco colorito senza sbavare o effetto lucido, incarnato protetto dall'aspetto luminoso e nutrito, non appesantisce la pelle, consiglio di utilizzo, agitare prima dell'uso, applicare con un pennello o una spugnetta fino a raggiungere il risultato desiderato, abbinare al correttore infallibile More Den. Concealer per una make-up routine completa, formula leggera e traspirante rinnovata con l'aggiunta di microperle e vitamina C, con SPF 25 per un'elevata protezione dai raggi UV. Contenuto 1 L'Oreal Paris Fondotinta liquido infallibile 32H, coprente a lunga tenuta con protezione solare SPF 25, formula waterproof e idratante, tonalità, 140 badge d'orè. Il vincitore del premio è L'Oreal Paris 32H. Fondotinta liquido idratante con coprenza infallibile, colorito fresco contenuta fino a 32H, low transfer, mask friendly e waterproof. Pelle e imperfezioni coperte a lungo donando un fresco colorito senza sbavare o effetto lucido, incarnato protetto dall'aspetto luminoso e nutrito, non appesantisce la pelle. Consiglio di utilizzo, agitare prima dell'uso, applicare con un pennello o una spugnetta fino a raggiungere il risultato desiderato, abbinare al correttore infallibile Mored & Concealer per una make-up routine completa. Formula leggera e traspirante rinnovata con l'aggiunta di microperle e vitamina C, con SPF 25 per un'elevata protezione dai raggi UV. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.